Ci sono spettacoli che nascono per divertire, spettacoli che nascono per intrattenere, spettacoli che nascono per emozionare. Questo spettacolo, a noi piace definirlo questo documentario in formato teatrale, nasce unicamente solo con uno scopo, quello di ricordare, di fare memoria. Ascolterete quattro storie vere, quattro storie effettivamente raccolte con un piccolo registratore sui campi di battaglia. Quattro storie provenienti da uno dei conflitti più assurdi, sanguinosi, drammatici, ma allo stesso tempo più dimenticati che l'essere umano abbia mai combattuto. Historia magistra vite. La storia è maestra di vita e qualcuno, tanti secoli più tardi, ripeteva, chi non ricorda il passato è condannato a riviverlo. Grazie a tutti.